L'AFO 5 Guardate come lo stanno scaricando dai gas e dai fumi, dalle poli che fanno all'interno per avviare così lo spegnimento, un momento storico questo per Taranto lo spegnimento dell'AFO 5, esattamente le ore 3, le ore 3 della notte tra il 12 e il 13 marzo L'AFO 5, sembra che siano iniziate le fasi preliminari di spegnimento dell'AFO 5 incredibili queste emissioni, dall'AFO 5 incredibili L'AFO 5, il più grande d'Europa, viene avviato allo spegnimento lo stanno adesso portando al riscaldo, quindi a una situazione di poter arrivare a temperature molto più basse e fino allo spegnimento nei prossimi giorni L'AFO 5, l'AFO 5, la nube, la nube, vedete che sta investendo la città la città sono le ore 3 e 10 guardate agli infrarossi, come si vede meglio l'AFO 5, guardate, l'AFO 5 agli infrarossi quello che si sta vedendo adesso è veramente incredibile guardate l'aria, guardate cosa ci sta succedendo guardate, guardate incredibile sono con una maschera anti gas, perché si sente, gli occhi possono bruciare quando tolgo la maschera, gli occhi bruciano pazzesco, dall'autofono più grande d'Europa nube imponenti che durano, guardate, si elevano sulle strade più alti dell'atmosfera salgono e si spostano, guardate la città di Tarasso adesso è invasa grazie a tutti